Sono qui a Ubud Valley, Moxa Restaurant, uno dei più buoni ristoranti vegani che devi assolutamente provare se ti capiterà di viaggiare in questo splendido posto. Sono qui con Chef Made, che ha oltre 30 anni di esperienza nella cucina vegana e decisamente sa come rendere semplici le cose anche per un disastro ai fornelli come me. Oggi impareremo come fare quello che viene chiamato il tempeh bacon, quindi tempeh marinato che può essere utilizzato sia come piatto di accompagnamento che come main course. Cominciamo. Mettiamo in una scodella un po' di aglio, un po' di peperoncino, cumino, un po' di pepe nero, un po' di paprika dolce se ce l'abbiamo, un po' di miele e mischiamo il tutto. Aggiungiamo un po' di olio di cocco. Ed è il momento di tagliare i nostri panetti di tempeh. Possiamo scegliere la grandezza a nostro piacimento. E aggiungiamo un po' di sale. Mettiamo una pentola sul fuoco, aggiungiamo un po' di olio d'oliva, ci mettiamo dentro il nostro tempeh. Aggiungiamo dell'altro olio d'oliva, visto che il tempeh ne assorbe molto. E poi lo mariniamo nella nostra scodella. Lo giriamo bene da una parte e dall'altra. Mettiamo i nostri panetti di nuovo sul fuoco. Li bruciacchiamo un pochino, giusto un po'. Li rimettiamo ancora una volta dentro la nostra salsa e li impiattiamo. Possiamo aggiungere un pochino di formaggio vegetale oppure no. Sta a noi la scelta e voilà! Buon appetito!